Grazie Ciao 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 Io stavo facendo la biblioteca, vi piace? Che bello E invece voi che stavate facendo? Stavamo studiando le cause della guerra mondiale Anche se a me bello da una fame Ber panino col prosciutto Meglio candela Meglio il dolce Ma che, no Mi stava di prima Che il signor Ferrero è morto No, ma guardi L'altro ieri lo stavano dicendo a te A San Valentino Vi faccio una ricerca Guarda un po' No Io intanto guardo di là Sì tesoro vai Non lo so No Come si deve Aspetta Mi sa che è questo Tu hai trovato qualcosa? Sì Vediamo di prima Un sacco di foto Un sacco di foto Un sacco di foto Si te so Pietro Ferrero ho trovato Imprenditore nel settore alimentare Fondò il gruppo dolciario Che poi Tu invece Il sito della Treccani Ho trovato Società italiana del settore dolciario Un'annata del 1946 Qui Questi diversi macchi La fiesta e anche Nutella Una delle 90 parole chiave E' una delle 90 parole individuate dalla Treccani Come parole chiave di ogni anno A partire dal 1925 1995 Dvd 1959 Barbie 1953 Lego 1954 Televisore 1958 Google 1988 Droni 1937 Paperino chas Immo process Immo 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 Grazie a tutti